Ho scelto di frequentare il corso di gestione strategica dell'economia circolare in quanto si differenziava dall'offerta formativa presente online per un contenuto meno orientato agli aspetti tecnici e più invece agli aspetti gestionali e organizzativi dell'economia circolare. Le principali competenze acquisite attraverso la frequentazione di questo corso sono da un lato la capacità di osservare i processi lineari da una visuale più ampia con degli strumenti utili a segmentarli e analizzarne i diversi subprocessi per capire come potenzialmente trasformare questi e allinearli ai principi dell'economia circolare. Dall'altro il corso fornisce un nuovo pratico legato ai molti e diversi esempi di come le organizzazioni si stanno rinnovando per adeguarsi a questo nuovo modello a partire per esempio dalla scelta dei materiali, del packaging e così via. Seguire il corso insieme agli altri partecipanti è stato utile in termini di confronto con dei professionisti che gestiscono problematiche del tutto analoghe a quelle che mi trovo a gestire anch'io. Ho riscontrato un ambiente molto aperto in termini appunto di confronto anche in ottica di networking per il mio futuro professionale. In un'allocuzione l'insegnamento che mi porto a casa è gestione della complessità nel senso che il corso mi ha fornito gli strumenti che oggi mi consentono di guardare i processi con un occhio più razionale che mi permette di spacchettare per così dire i processi complessi in step più semplici che possono essere più facilmente analizzati e rinnovati in ottica di circular economy.